buongiorno benvenute e benvenuti a fin madrid in bocca al lupo il podcast di riproduzione assistita gravidanza ginecologia di fin madrid sono il dottore gomez ginecologo e questo è il podcast di fin madrid l'unico centro della peninsula iberica diretto per una ginecologa italiana la dottoressa ricciarelli parliamo oggi di double trigger il doppio trigger la induzione della volazione finale la maturazione occitaria e il trigger trigger in inglese significa di sparare una pistola qualche cosa trigger di sparare qualcosa e sempre che si fa una fiffette l'ultima amministrazione di iniezione l'ultima iniezione è quella normalmente l'hcc e che fa la ovulazione prima di questa ovulazione al peritoneo la cavità addominale si fa il prelievo di ociti per non perdere evidentemente gli ociti e questo trigger si fa con queste cose si fa con il 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 hcc ma l'hcc e alcune volte è la ragione per avere una iper stimolazione varica se l'hcc non si produce in questo volgine volte si fa un trigger con una cosa più soft non così intensa come l'hcc una più suave diciamo in spagnolo spesso in italiano lo stesso una stimolazione più leggera e una fase finale più leggera con un'altra opzione come è l'analogo della gnrh normalmente noi utilizziamo la leuprorelina o la la il decapeptil normalmente normalmente la leuprorelina per esempio leuproni negli stati uniti o la triptorelina per esempio no e questo è quando si utilizza questo trigger alternativo è perché non vogliamo rischiare una iper stimolazione varica ma alcune volte utilizziamo tutti e due ci siamo si utilizza la hcc e alla stessa volta la triptorelina per esempio ok e quando facciamo così facciamo così quando abbiamo avuto un ciclo precedente dove ci sono tanti ociti maturi o si ha prelievato la recuperazione varica dopo il pick up è bassa rispetto allo che si aspettava che si aspettava immaginiamo che abbiamo 12 ociti per esempio dopo il prelievo la recuperazione è 2 3 ok questo significa che qualche cosa non va all'ovario che c'è un problema ovarico ma ci sono strategici ci sono opzioni al ciclo posteriore di fifet si questo ciclo non è andato bene per provare di avere più ociti maturi o più vociti in totale dopo il pick up e questo è una delle cose che si fa è fare una programmazione della 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 stimolazione della del trigger che normalmente si fa la 34 36 ore prima del pick up voglio dire se il pick up è alle 8 della mattina due giorni prima alle 9 della notte 8 della notte 10 della notte più o meno sia di mettere questa hcc o questo trigger perché l'ovulazione si produce più o meno 36 40 ore dopo il trigger prima di produrse questa ovulazione si fa il prelievo ok così una della con una delle cose che si fa è adelantare fare un po più prima il trigger ok e un'altra è quello che sto parlando il double trigger double trigger significa mettere tutti e due hcc e anche il il la tritorellina per esempio noi facciamo normalmente lo v3 la 6500 unità di hcc e normalmente mettiamo 0,2 milligrammi di tritorellina alle stessa volta e 34 35 normalmente un po prima 36 ore prima del prelievo ok con questo proviamo di stimolare la questa ovulazione fare la induzione ovulatoria con l'hcc che va direttamente all'ovario e anche indirettamente con la tritorellina che fa escere l'h lh ipofisario e altre peptidi che ci sono nell'ipofisi ok c'è chi dice che questo aiuta anche la qualità ovocitaria eccetera 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 ma questo ancora oggi continua essendo un estrategia una un un trattamento che soltanto si fa in questi cosi normalmente la induzione volatoria una donna per esempio che sta tutta a posto basta con il hcc per esempio in italia c'è vitrelle o gonassi per esempio la induzione volatoria è imprescindibile farla finalmente con questi farmici perché se non si fa se non si fa abbiamo ociti immaturi ok la madurazione finale ovocitaria è necessaria per tre volte per tre cose una per fare questa rottura questa apertura del follicolo al peritoneo e dopo l'ovocito va alle tube e questo è una cosa un'altra è che si comincia la si completa lo che si chiama la primera divisione meiotica così il processo di perdere i cromosomi che tutti ovocito ha di avere anche espermatozoide perché se no le cellule che hanno 46 cromosomi e non fanno dividere per la mità i cromosomi ok tutti gli umani abbiamo le cellule 46 cromosomi 23 della mia padre del mio padre 23 della mia madre e dopo meno tutte le cellule eccetto i ociti o i spermatozoidi che hanno la metà hanno 23 cromosomi ma questo processo l'espermatozoide già finalmente quando già la madurazione espermatica è stato fatta già i 23 cromosomi ma il ovocito e si chiama e sta fermato questo processo di perdere gli ovociti comincia la vita fetale ma si ferma non si completa totalmente e comincia questo di completare dopo amministrare questa lhcc ci sono due volte due due passi dove si fa questo di perdere 23 cromosomi il primo punto è quello dopo amministrare la lh e il secondo punto è dopo la fertilizzazione dell'ovocito diciamo che si perde il primo corpusculo polare e si perde il secondo corpusculo polare questo di perdere gli corpuscoli polari e questo processo di perdere la mità di cromosomi se non si amministra la lh non abbiamo questa perdita di cromosomi e sono ociti maduri ci sono protocolli di madurazione in vitro di ovociti ma ancora queste ci sono tecniche che non hanno dimostrato essere valide così tanto valide come quelle che stiamo parlando così se non si amministra al trigger non abbiamo il processo di completare la divisione migliottica ok di perdere cominciare a perdere questi cromosomi ok gli umani non possiamo avere più di 46 cromosomi ok e dopo la terza ragione è per fare trasformare questo follicolo in follicolo a il corpo luttio ok questo follicolo dopo l'avulazione si trasforma e comincia a producere più progesterona che gli altri cose produce in altre cose ma anche la progesterona che la ormona predominante l'ormona più importante diciamo dopo l'avulazione che fa aprire la ventana per la finestra scusi d'impianto per aprire la impiantazione embrionaria ok per trasformare anche l'endometrio in trasformarlo e farlo recettivo alla impiantazione embrionaria ok quello è il doble trigger ok anche ora si parla anche del dual trigger doppio trigger quello che abbiamo parlato dual trigger significa fare lo stesso ma in differente ore l'hcc e il triptorellina l'analogo della gnrh io non l'ho fatto ok e anche si parla di il co trigger che lico trigger significa amministrare alla stessa volta l'hcc e anche fsh così aiutare con un po di stimolazione ovarica tutte queste cose sono nuove dove dove prima abbiamo soltanto il trigger con l'hcc anni fa adesso abbiamo trigger dual trigger doppio trigger co trigger li chiamo così a questo programma di oggi è molti trigger ok moltissime moltissime diceva moltissimas grazie per stare scussandomi ai ma in italiano moltissime grazie li ringrazio tanto essere la ascoltandomi e si può conoscere il centro può andare a www.fimadrid.it e anche si ringrazia di lasciare un commentario nel itunes itunes podcast o anche abbiamo un'altra plataforma in spagnolo che io penso che in italiano c'è sia molto famosa che si chiama i box i b o o x i box 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 ok si ringrazia perché i bambini questi che fanno tutti questi programmi dove io ho visto come si fa il podcast dicono sempre che è molto importante lasciare commentari nel itunes specialmente ok moltissime grazie fino la settimana prossima un saluto è in bocca al lupo ciao ciao no no Grazie a tutti.